cosa rappresenta per me l'arampicata non solo una cosa forse un mix conoscenze natura intesa sfida, progettazione e anche crescita ovviamente uno sport che ti tempra forse più mentalmente che fisicamente per me in arrampicata la parete a suo modo lo specchio dei tuoi problemi dimostra come affronti una situazione e le paure che hai e ovviamente come cerchi la soluzione alla fine di tutto devi solo decidere se provarci o farti respingere grazie a tutti